Eccoci qua, ciao da Vicky, siamo in giro per le strade di Miami Ovviamente con 105 siete anche in America E noi quest'oggi siamo qua in Ocean Drive perché siamo in un weekend molto caliente È il weekend del Memorial Day, Memorial Day weekend A Miami è sinonimo di musica hip hop ragazzi E infatti ci sono un sacco di artisti che arrivano dal mondo hip hop C'è Recross, abbiamo Recross, abbiamo Didi, abbiamo Young Jeezy in town Che si esibiscono ovviamente in concerto tutti quanti Ovviamente tra sabato, domenica e lunedì per il proprio lunedì è Memorial Day weekend È una festa che comunque rende omaggio ai veterani, ai soldati americani Ma a Miami ovviamente arrivano tutti per festeggiare il Ponte Lungo Allora vediamo che succede in questo weekend caliente del Memorial Day Seguiteci! Siamo sempre in giro in Ocean Drive per il Memorial Day weekend Siamo in compagnia di un gruppo di ragazze simpaticissime Qual è il tuo nome? Nina Qual è il tuo nome? Dina Qua è il tuo nome? Consuelo Keisha Amiche, è una vacanza qui a Miami Hai già stato in alcuni club qui a Miami Beach, a South Beach, a alcune partite? Siamo in un club mansion a frattempo È stato bello, sì Travis Porter era lì e chi era? Quindi è stato bello È stato bello È stato bello E comunque ci sono bello Quindi per quanto tempo ti restare in Miami? Comunque, sì Comunque è frattempo Ok, quindi domani se ne vanno e sono qui da venerdì, weekend lungo So enjoy Miami, ok? Grazie Bye 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 Eccoci qua, siamo sempre nel weekend del Memorial Day, ovviamente il Memorial Day weekend, ci sono tanti ragazzi che vogliono vivere in Ocean Drive dove siamo noi in questo momento, qual è il tuo nome? Don Magic One Don Magic One, da dove sei? Miami Oh wow, ti amo, Miami, ti amo, sì Yes, what else do you want to know? I want to know if you're having fun in Miami Miami, fun, Miami Do you speak Italian? That's River Durchy Ah, perfetto, and then what? River Durchy Sì, and then what do you eat? Pizza Ah, ok, perfetto, so you speak Italian? And pasta Ah, bravo, bravissimo Meatballs and pasta Thank you so much All right So have fun, all right? All right Thank you Senti, questo è il Memorial Day weekend, ci sono un sacco di personaggi stravaganti qua a Miami Beach che arrivano da tutti gli Stati Uniti, ovviamente le feste vanno avanti fino a notte Noi vi abbiamo fatto vivere un po' questo weekend, un po' tutto all'insegna della musica e i pop, ragazzi Ce n'è veramente tanti di artisti i pop qua a Miami in questo periodo, in questo weekend particolare Che dire, noi ci rivecchiamo prossimamente, sempre su 105, sempre sulla Miami TV Ciao da Vicky Ciao da Vicky!